Sono Renzo Simonato, sono il direttore regionale di Intesa San Paolo del Triveneto. L'innovazione per Intesa San Paolo è la strategia fondamentale di sviluppo del nostro gruppo e si estrinseca in due modi, sicuramente verso l'interno perché c'è bisogno con l'evoluzione digitale di sviluppo interno con anche di modello, di business, non soltanto di processo e di prodotto e poi sicuramente c'è un'innovazione che noi dedichiamo ai nostri clienti è un'innovazione che deriva dal fatto che abbiamo costituito un ufficio innovazione abbiamo societarizzato parte della nostra struttura di ufficio innovazione a Torino che ha poi delle declinazioni sul territorio. Una di queste declinazioni è qui da noi, abbiamo quattro persone che si occupano sostanzialmente di contattare le aziende e di incontrarle con varie attività tra cui quella di metterle in contatto per esempio con altre aziende, quindi Open Innovation quindi un'evoluzione sia per le aziende mature sia per le aziende di start-up e quindi in crescita o comunque di scale-up.